ma bella ragazzi e benvenuti all'episodio 43 43 perché stai in italia manca pazzini espulso e si va ancora al big match con milan a milano a milano quindi un altro scontro diretto a milano ragazzi lo diamo proprio perché nel giorno con tutte ste ombre ci si capisce in cazzo mamma mia un bordello va a balotelli subito difesi così gira balotelli perché c'era la palla si spinge sul fondo l'incredibile sau cerca la canna giocata poi obi one pressing incredibile allora sau la mette dentro per le vandoschi va roberto il magnifico che prova a girarsi ancora per l'incredibile va sau 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 come presentarsi a milano al 32esimo minuto il cagliari buca amelia si porta in vantaggio 1 a 0 nello scontro diretto che vale il campionato ancora una volta de jong di fisico mamma mia le vandoschi contro tutti le vandoschi contro tutti mischia incredibile didac vilà il tacco per acervi l'errore per le vandoschi grande palla dentro il controllo di naengolan la vole la parata e poi il colpo di testa allontanato esce esce bene il milan è bene non tanto wow naengolan per cristo canne cristo canne si gira cristo canne la proverà no si no si palla alta peccato attenzione qui ancora naengolan sau dentro per le vandoschi va roberto il magnifico la larga per cristo canne che ancora ci prova no questa volta è sau che se ne va la grande sau 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 bussa da acervi balla fuori burkic gran turn siamo al secondo tempo errore clamoroso di burkic e manuelson dentro balotelli burkic ci si fa perdonare subito poi tu sgarra tu sgarra la giocata per il barbo 30 sul campo va a dare la palla per roby cristo canne in avanti per saul incredibile cerca raso al gule lo trova la profondità per le vandoschi va roberto contro abate roberto si gira roberto amelia amelia si allunga para pure mo amelia mu para pure parano tutti dentro il gioco tacco per naengolan 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 varas al gule all'indietro per roby la perderà sal gule ci prova lui la parata farrain palla fuori troppo esterno peccato attenzione ancora cristo canne dentro per raso al gule una sola squadra in campo non è il milan le vandoschi va roberto va il magnifico attenzione mamma mia l'illusione del gol De Jong ed ecco palla in avanti per mexs perché c'è lontana la mischia attenzione grande mischia il gol di apate il milan va a pareggiare attenzione da cerbi che la va a rinviare in avanti per balotelli il milan vuole la vittoria dentro per emanuelson fermato attenzione tu sharaoui miracolo di berkic difficoltà per il cagliere che prova in queste ultime azioni a cercare di portare i tre punti a casa fondamentali barbo dentro c'è roberto il magnifico va a cercare l'incredibile va saou saou dentro ancora roberto fuori le vandoschi si mangia un gol clamoroso seppellini zazza abbiamo provato a cambiare gli interpreti in avanti per cercare forze fresche per trovare il gol seppellini dentro per le vandoschi le vandoschi palla che si spegne sul sulle lati dirà le vandoschi finisce 1-1 a milano contro il milan peccato perché eravamo partiti fortissimo sembrava che ce la potevamo fare amelia 10 parate 10 parate di amelia come è possibile nel frattempo la lazio va a pareggiare quindi rimane ancora lì sotto l'inter la juve vince sale un po' la juve vince e ci scavalca a tutti quindi siamo secondi e terzi insieme al milan la juventus prima ericsson vuole giocare e giocherà perché tanto che stanno le riserve con lo zenit vorremmo dire che la juventus prima 21 punti 7 vittorie una sola sconfitta contro di noi noi abbiamo praticamente lo stesso modo di giocare loro 19 gol fatti 6 subiti per loro 7 per noi però noi siamo imbattuti insieme al milan ce la stiamo giocando con loro però è bello è che dei 6 subiti loro 4 gli abbiamo fatti noi beh ottimo allora 15 gado doppio partita questa fondamentale ragazzi abbiamo le riserve contro lo zenit se riusciamo a batterli siamo praticamente un piede e mezzo agli ottavi con le riserve quindi questo sarebbe una cosa fantastica perché potremmo concentrarci fino a a fine gennaio metà febbraio solo sul campionato con i titolari sempre le partite più importanti e mancano Urk e Faisulin ma sicuro ma c'è Starikov c'è Starikov quindi la mancanza di Urk che non sappiamo chi sia Starikov ma è il 10 ed è forte veramente forte Avelar per Marcos Junior va all'insegne brasiliano grande giocata palla dentro strepitosa zazza prova a girarsi ancora Marcos Junior Marcos Junior si torna indietro Junior 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 stringe troppo dai qui le troppe col mancino Geser Rodriguez prova la giocata perde il pallone Anukov in contropiede va Witzel Witzel dentro Axel per Bistroff che palla Bistroff se ne va la grande Bistroff attenzione Bistroff ancora Bistroff Bistroff secondo palo Starikov addosso a Burkic scaldare Baden Baden scusate Axel Witzel palla dentro attenzione prova ad uscire un pochino il portiere pallone allontanato Lombaren sale indietro Denisov ti vole bicicletta volante di Dio ma che cos'è le fanno solo i russi Malafeglio per Kersakoff attenzione a Eriksson che salta male attenzione a Starikov che si gira alla grande c'è Murru che prova a fermarlo ancora Starikov Murru prova a toccargli il pallone Starikov non ne vuole sapere palla dentro Kersakoff pallone che rimane lì Shirokov Starikov secondo palo per Bistroff tiro di Witzel e calcio d'angolo mamma mia ancora Zenit con Witzel cerca il Grand Cross dentro Lombard pallone allontanato Denisov Denisov Lombard sale indietro Ubo Khan si gira Ubo Khan ancora Ubo Khan tutta sta agilità Witzel dentro ma l'estremito su Kersakoff Kersakoff Batlan il tiro di Denisov ed è 1-0 Zenit con un gol bellissimo ma continuano ad attaccare ed ancora Zenit la squadra più difficile da affrontare con le riserve si vede Denisov dentro corridoio bellissimo Bistroff secondo palo Starikov grazie a Starikov mamma che errore di Starikov ancora Zenit strepitoso Zenit ancora Hanukov Witzel palla larga per Shirokov dentro che palla ancora Shirokov grande palla per crescido Starikov Witzel mamma mia non finisce più al secondo tempo finalmente Zaza Zaza palla perfetta per Seppellini va Pablito 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 secondo palo calcio di rigore clamoroso fallo di Malafejev vediamo un po' cosa decide l'arbitro rosso vai a casa Malafejev si riapre il match per i Cagliari fortunato in Champions League i Cagliari perché dopo stare sotto di un paio di gol invece si ritrova con Zevnov in porta non lo dà mai questo rigore che c'è per carità però non lo dà mai Shirokov fuori entra Zevnov Seppellini nel suo periodo migliore Picchio ed è il pareggio uno a uno e adesso lo dobbiamo boom Zaza muore addosso a Zevnov e poi c'è Marcos Junior che gli stampa i tacchetti in fronte incredibile e adesso bisogna partire è la grande ancora 51esimo minuto c'è tutto tutta la ripresa per cercare di recuperare questo match ci prova lo Zenith Marcos Junior in contropiede attenzione il Cagliari subito in avanti Danilo Avelar alla profondità per Zeppellini 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 ancora non è finita cerca dentro Avelar all'indietro per Ekdal Valalbino per Zaza all'indietro Cesare Rodriguez ancora palla per Ekdal il tiro ribattuto Danilo Avelar Danilo Avelar traversa clamorosa mamma mia ancora Cesare Rodriguez in testa un tiro ancora non è finita Murru per Marcos Junior Zazza Zazza si gira male ma poi inventa una grande palla per Cesare Rodriguez 2 a 1 2 a 1 remuntata effettuata alla grande dal Cagliari che si porta in vantaggio 2 a 1 9 punti per ora da difendere per il Cagliari 63esimo minuto Zeppellini Zeppellini si distende Zazza da largo sulla fascia per i Cesare Rodriguez ma ancora super Cesare dentro per Zazza che si gira la conclusione peccato fuori di poco Ariaudio palla per Kersakoff Zenit si sveglia Kersakoff Kersakoff grande palla per Vitzel Vitzel ci proverà attenzione ancora rientra grandissimo palla all'indietro colpo di testa mamma mia i brividi palla nella battezza ancora Zenit attenzione a Belurkurov il tiro fuori mi ha pronunciato malissimo Zazza Kersakoff Kershito Kershito non cade giù ne salta due Kershito ancora grande palla Batland con i pugni poi colpo di testa il tiro ribattuto mischia clamorosa e palla fuori e l'arbitro dice che può finire qui per fortuna mamma mia che difficoltà ragazzi 2 a 1 contro lo Zenit strepitosa partita veramente l'importante era vincere anche perché l'Ajax perde con il Leone 3 a 0 quindi l'Ajax fuori dai giochi perde tutte e tre le partite all'inizio quindi anche se le vincerebbe tutte e tre sarebbe quasi impossibile per loro passare questo turno noi invece primi alla grande la tua amata fiorentina che cazzo che sarà nel prossimo video va gioco per Torino adesso Torino è una squadra che mi piace tanto su questo gioco anche alla Juve 5 coi hanno fatto sono tipo avvelenati quindi i titolari contro il Toro senza cerci senza cerci cosa molto importante molto importante Sansone Diopverdi Stevanovic perché quattro punte giusto giusto Obi-Wan parte subito il Cagliari in avanti dentro per Roberto il Magnifico Roberto il Magnifico cerca l'incredibile Sao Largo per far Rain il tiro Gomis rete di Nainggolan ma fuori gioco che non c'è guardate fuori gioco che vabbè c'è non c'è c'è non c'è più che c'è che non c'è però vabbè Obi-Wan è per Roberto il Magnifico attenzione Roberto ancora palla per 30 30 Proverà a fare qualcosa gira per Cristo Can Cristo Can Cristo Can la botta è un gol d'autore strepitoso era in silenzio è stato in silenzio inizio stagione non ha detto niente stava lì stava progettando simpatico che ride abbiamo rimesso un altro replay perché siamo rimasti stupiti dal gol bellissimo un micro fantastico veramente gol veramente veramente bello di Cristo Can non ce lo aspettavamo sinceramente che potesse entrare proprio lì sul palo veramente gol bellissimo non c'è lì vabbè Boraccio vengono dentro per 30 attenzione a 30 che si gira tenta il cross lo stop l'ha rovesciato la valla di Vanellini Farrain Gomes riesce a segnare no Farrain c'è una maledizione proprio destro o sinistro Roberto per Rasalgole che inventa per Robby che inventa per Sau grandissimo Cagliari corridoi che vedono solo i giocatori del Cagliari da 2 a 0 al 38esimo minuto Cagliari che si impone con tutti oramai in questo inizio di stagione a dir poco epico mamma mia sì quest'anno c'è voglia di vendetta tutto in campionato non c'è sta cazzi per nessuno ragazzi Darmian ci prova il toro Sansone dentro per Stevanovic chiuso da Tosgara ma attenzione fortunato Stevanovic cross dentro colpo di testa Diop che la va a piazzare con la porta vuota 2 a 1 il Torino si porta sotto attenzione ancora Stevanovic cross dentro perché ci ha butta fuori non si sa perché era solo attenzione a Verdi Verdi il cross dentro colpo di testa la palla rimane lì Nel Galland si addormenta e Suchu pareggia per il toro rimuntata ma non è finita ragazzi non è finita il barbo attenzione per Roberto il Magnifico la botta subito vicino al gol del vantaggio il Cagliari che prova in tutti i modi non ci sta questo cane per Sau attenzione a Sau che punta Rodriguez dentro per Rasalghul palla strepitosa Lewandowski di esterno la palla rimane lì Obby ribattuto ancora Cagliari però il barbo per Obby Obby One per Nainggolan Rasalghul dentro per Sau 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 palla anche per lui al 72esimo 3 a 2 dopo la piccola parentesi del toro il Cagliari si riversa nell'area di rigore avversaria ed è 3 a 2 che spettacolo non è forte non mi aspettavo una bestia il nano più forte del mondo il nano più forte del mondo attenzione al toro adesso non la togli a Messi vabbè Messi è il nano più alto è più alto attenzione a Farrain 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 la giocata di Farrain all'indietro grande palla dentro per Rasalghul 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 con un attimo il Cagliari distrugge il toro 4 a 2 soccombe il Torino che ha provato ha provato a fare qualcosa il toro non c'è poco da fare Farrain dentro la profondità per Benzina 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 la giocata di Benzina ancora dentro grande palla Rasalghul dentro per Roberto secondo palo Benzina la parata di Vizio ma che spettacolo questo Cagliari ancora Verdi dentro Gazzi Verdi Verdi il tiro ribattuto Tusgar allontanare Obi-Wan ancora 89esima ultima azione della partita Obi-Wan 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 Elis Gomez se la butta dentro 5 a 2 manita del Cagliari non so chi è stato più forte se il portiere o quelli che sto guardando oddio sono tutti i fenomeni qua vedo 5 a 2 5 a 2 manita al Toro è finita ragazzi è finita strepitosa partita del Cagliari che continua ad attaccare il tacco basta Lewandowski ancora che si rigira perde il pallone ma c'è benzina che ci prova e prende il palo poi no Farrain 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 gli sgomis gli nega la gioia del gol l'inizio del campionato di Farrain veramente veramente pavua mi pare che mai con me cazzo sta sempre in attesa è sfortunato si ma sta pure in difesa si è un un treno un Gesù Cristo è un pendolino fatto quel salto di qualità fantastica quindi inizio di stagione per questo super super Cagliari imbattibile imbattibile davvero la Lazio perde con l'Udinese quindi rimane indietro la Juve vince però la Juve vince vince anche il Milan siamo tutti lì ragazzi siamo tutti lì siamo tutti pronti come queste altre sfide di campionato per cercare in tutti i modi comunque a tre due squadre ostiche al prossimo video eh Frentino e Palermo tutte le squadre Palermo lo so primo sempre si ma tutte le squadre comunque media alta classifica quelle di media bassa non le riusciamo ancora ad affrontare si quindi ragazzi commentate in tanti per questo super inizio di campionato imbattuti in tutto e per tutto mettetevi tanti mi piace un saluto da tutti bella 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 Grazie a tutti.